Dopo aver pianto per tre quarti dello spettacolo, adesso ci un attimo... Ecco, adesso ci andiamo a spettacolo! Vediamo la foto così! L'hai messo su Instagram! Poi dopo lo metti! Se lo metti su Facebook, ti datti così ce l'ho usato! E' bellissima questa foto! Aspetta! Tutti in piedi per anni! Tutto per anni! Tutto per anni! Ciao! 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 Ciao!